È una goccia nel deserto, ma è una goccia di speranza, il secondo caso al mondo di un paziente infetto da HIV-1 che ha raggiunto la remissione del virus dopo un trapianto di cellule staminali. La notizia l'ha anticipata il New York Times, citando un articolo che verrà pubblicato sulla rivista Nature. Grande prudenza esprimono i ricercatori della University College London, avvertendo che è ancora troppo presto per dire che colui che viene definito come il paziente di Londra sia guarito dall'HIV. Nonostante da 18 mesi non si trovino più tracce del virus. I dati finora acquisiti parlano di un passo importante nella lotta all'AIDS. Era di 12 anni fa il primo e fino a ieri unico caso di guarigione dal virus. Timothy Ray Brown, americano di Seattle, che contrasse il virus in Germania e per questo noto come il paziente di Berlino. Sia su di lui che sul nuovo anonimo infetto che è stato curato a Londra, sono stati effettuati trapianti di midollo utilizzati per la cura del cancro. Ma in quest'ultimo caso, con una forma meno aggressiva di trattamento. Il secondo caso al mondo. Una goccia, come si diceva, visto che le cifre sull'AIDS parlano di un'epidemia globale ancora in corso. La mortalità è stata fortemente ridotta, lì dove si riesce ad accedere alle cure con farmaci retrovirali. Mentre nei paesi più poveri, la strage continua. Si stimano 380.000 morti l'anno nella sola Africa sudorientale. Ma anche nei ricchi Stati Uniti si parla di un milione di persone infette e 40.000 nuovi contagi ogni anno.